è tutto a posto per il compleanno di leo ho messo anche il festone rosa vabbè ho trovato solo quello tieni l'ombrellino tieni ecco e no la bandierina ma scusa il video quello dei nostri amici quello dei nostri amici poi ho preso la torta il regalo sarà contentissimo Leo dai vieni buon compleanno ciao auguri c'è il regalo guarda qua cos'è è un abitatore ma dove l'ho preso veramente era l'unico aperto ma serve l'abitatore no 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 aspetta aspetta perché c'è la sorpresa c'è il video guarda guarda ma chi è questa bambina ma come non sono i nostri amici ma chi sono ma come chi sono ha detto teo ma non ha detto teo ma avete capito male ma chi sono molto speciale ha detto teo ma è il ferramenta 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 io vado era aperto solo lui ma no aspetta che c'è la torta vieni Roby porta la torta ma c'è scritto teo pure sulla torta auguri teo ma dove l'hai presa l'ho presa col video no dai scusa Leo ma scusami ma scusate ragazzi dai è il tuo compleanno ma almeno il nome ma io sono stanca e non è che posso far tutto io sono una mamma di merda cosa non fare per un video su internet